questa volta metto come sottotitolo ricordi di una persona non si tratta di me ma di tutt'altra persona penso che non occorra alcuna ulteriore prefazione proprio due giorni fa se mi hai ardalonovic mi ha detto mi rinsavirai un giorno ivanovic dimmelo di grazia strana richiesta io non mi offendo sono una persona timida ma tuttavia ecco che mi hanno fatto anche pazzo per caso un pittore mi ha dipinto il ritratto nonostante tutto mi dice tu sei un letterato io ho accettato e lui l'ha anche esposto leggo venite a vedere il ritratto di questa persona malata prossima alla pazzia e pazienza ma come si fa però così addirittura nella stampa sulla stampa bisogna mettere tutto ciò che è nobile occorrono degli ideali qui invece dillo almeno in maniera indiretta hai appunto lo stile per questo ma no in maniera indiretta non vuole al giorno d'oggi l'umorismo e il bello stile vanno scomparendo e si scambiano gli insulti per aguzia io non mi offendo non sono mica un qualche letterato per uscire di senno ho scritto un romanzo non me l'hanno pubblicato ho scritto un foglietto me l'hanno rifiutato ne ho portati molti in giro per le redazioni di questi foglietto dappertutto me li hanno rifiutati non avete sale mi dicono ma quale sale domando con un soghigno quello attico quello non capisce neppure faccio soprattutto delle traduzioni del francese per i librai scrivo anche degli annunci pubblicitari per i mercanti una rarità è rossiccio dicono loro delle proprie piantagioni per il pane circo a sua eccellenza piotter matievic ho beccato un bel gruzzolo su ordinazione di un libraio ho scritto l'arte piace alle signore di libretti come quello ne ho messo in circolazione all'incirca sei in vita mia voglio fare una raccolta dei mon mot di voltaire ma ho paura che paiano insipidi ai nostri valentuomini ma che volter adesso ci vuole il randello non volter si spaccano l'un l'altro i denti fino all'ultimo ecco qui tutta la mia attività letteraria resta solo da aggiungere che invio senza ricompensa lettere alle redazioni firmandole per esteso faccio di continuo delle raccomandazioni ed ho dei consigli critico e indico la strada a una redazione la settimana scorsa ho scritto per la quarantesima volta in due anni ho speso quattro rubli soltanto di franco bolli un carattere pessimo ecco come stanno le cose penso che quel pittore mi abbia fatto il ritratto non a causa della letteratura ma per due verruche simmetriche che ho sulla fronte un fenomeno straordinario dice lui non hanno idee e per questo adesso vanno avanti coi fenomeni e come ci sono riuscite bene nel ritratto le mie verruche sembrano vere questo lo chiamano realismo quando alla pazzia l'anno scorso da noi hanno messo molte persone tra i pazzi e con che stile pur possedendo un talento dicono loro così originale ecco che proprio alla fine è risultato d'altronde la cosa si poteva prevedere da un pezzo questo è ancora abbastanza abile tanto che da un punto di vista puramente artistico si può perfino apprezzarlo quanto a quelli un tratto sono diventati ancora più savi proprio questo è il punto da noi quanto a fare uscire di senno sono capaci ma non hanno ancora reso più savio nessuno il più savio di tutti secondo me è quello che almeno una volta al mese si dà dello stupido qualità questa adesso scomparsa prima nel peggiore dei casi lo stupido almeno una volta all'anno si rendeva conto di essere uno stupido ma adesso neanche per sogno hanno confuso a tal punto le cose che non si riesce più a distinguere lo stupido dal savio hanno fatto di proposito mi venne in mente l'arguzia inventata dagli spagnoli quando due secoli e mezzo fa i francesi crearono il primo manicomio hanno rinchiuso tutti i loro stupidi in un edificio speciale per convincersi che loro sono savi è proprio così rinchiudendo un altro in manicomio non dimostri con questo il tuo senno k è uscito di senno vuol dire che ora noi siamo savi no non vuol dire ancora questo d'altronde diavolo perché faccio tanta confusione col mio senno brontolo brontolos sono venuto a noia persino alla mia serva ieri è passato da me un amico il tuo stile sta cambiando è diventato spezzettato spezzetti spezzetti una frase incidentale poi un'altra frase incidentale dentro la precedente poi inserisci ancora qualcosa tra parentesi poi di nuovo spezzetti spezzetti non mi ha ragione mi sta accadendo qualcosa di strano il mio carattere sta cambiando mi fa male la testa comincio a vedere e ad udire certe cose strane non propriamente delle voci ma come se accanto a me qualcuno facesse baboc 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 ma cos'è questo baboc bisogna che mi distracca sono andato a divertirmi e sono capitato a un funerale un lontano parente un consigliere collegiale però la vedova e cinque figlie tutte nubili pensate un po solo per le scarpe quanto deve venire a costare il defunto guadagnava bene adesso invece non avranno che una pensioncina abbasseranno un po la cresta ne hanno sempre trattato con sufficienza non sarei neppure andato da loro adesso non fosse stata un'occasione straordinaria ho accompagnato il defunto fino al cimitero insieme a tutti gli altri loro si tenevano in disparte si davano delle arie la mia mezza uniforme è veramente mal ridotta erano 25 anni credo che non andavo al cimitero quello sì che è un bel posticino in primo luogo l'odore sono arrivati tutti insieme circa 15 morti drappi funebri di vario per e drappi funebri di vario prezzo c'erano perfino due catafalchi uno per un generale e un altro per non so quale dama molte facce compunte molta falsa afflizione anche e molta esplicita allegria il clero non si può lamentare per loro quelle sono entrate ma l'odore l'odore non desidererai essere un appartenente al clero di questo paese ho guardato con cautela i volti dei defunti non fidandomi della mia impressionabilità alcuni hanno delle espressioni dolci altri sgradevoli in genere i sorrisi sono brutti in alcuni casi molto anche non mi piacciono te li sogni durante la messa sono uscito fuori dalla chiesa all'aria aperta era una giornata grigia ma asciutta faceva anche freddo del resto siamo in ottobre ho girato un po per le tombe ci sono varie categorie la terza categoria costa 30 rubli è una cosa decorosa e non troppo cara le prime due sono dentro la chiesa sul sagrato ma a quelle non ci si può avvicinare tanto sono care nella terza categoria quella volta seppellivano sei persone circa tra cui il generale e la dama ho guardato dentro le tombe era orribile erano piene d'acqua e che acqua completamente verde e ogni momento il vecchino le svuotava con un secchio in attesa che terminasse l'ufficio funebre sono uscito a passeggiare fuori delle porte del cimitero proprio davanti c'è un ospizio e un poco più in là un ristorante è discreto pure un ristorantino niente male antipasti e ogni cosa era pieno di gente compresi molti accompagnatori ho notato molta sincera allegria e animazione ho mangiato qualcosa e ci ho bevuto sopra poi ho preso parte personalmente al trasporto della vara dalla chiesa alla tomba come mai i morti dentro alla vara diventano così pesanti si dice a causa di una specie di inerzia perché il corpo ormai non si governa da sé o qualche altra sciocchezza di questo genere ma è una cosa che contraddice la meccanica e il buon senso non mi piace quando possedendo soltanto una cultura generale la gente pretende di risolvere problemi specialistici da noi la cosa succede di continuo i borghesi amano disquisire su argomenti militari e persino da stato maggiore mentre chi ha una formazione da ingegnere esprime giudizio soprattutto sulla filosofia e sull'economia politica al banchetto funebre non ci sono andato io sono orgoglioso e se mi ricevono soltanto per una necessità straordinaria cosa si devo andare a fare ai loro pranzi sia pure funebri non capisco soltanto perché sono rimasto al cimitero mi sono seduto su una rapide e mi sono immerso nei miei pensieri ho cominciato dall'esposizione di mosca e sono andato a finire alla meraviglia intesa in generale come tema di riflessione a proposito della meraviglia ecco che cosa ne ho tirato fuori meravigliarsi di tutto naturalmente è sciocco mentre invece non meravigliarsi di nulla è molto più bello e chissà perché è considerato di buon gusto ma difficilmente così in realtà secondo me non meravigliarsi di nulla è molto più stupido che meravigliarsi di tutto inoltre non meravigliarsi di nulla è quasi la stessa cosa che non rispettare nulla e infatti lo stupido non è capace di rispettare sì soprattutto io desidero rispettare io bramo rispettare mi ha detto non so in che occasione pochi giorni fa un mio conoscente brama rispettare mio dio ho pensato che cosa ti succederebbe se ti azzardassi a scrivere una cosa simile in questi tempi a questo punto ho smarrito il filo dei miei pensieri non mi piace leggere le iscrizioni tombali sono sempre le stesse in una lapide accanto a me giaceva un panino mangiato a metà stupido e fuor di luogo l'ho gettato a terra dato che non si trattava di pane ma di un volgare panino imbottito d'altronde far cadere delle briciole di pane sulla terra non è peccato è peccato invece farle cadere sul pavimento devo controllare l'almanacco di su volim bisogna supporre che sia rimasto a lungo lì a sedere anche troppo a lungo ossia mi sono persino coricato su quella lunga pietra a forma di bara di marmo e com'è successo che a un tratto ho cominciato a sentire svariate cose da prima non ci ho fatto caso e ho assunto un atteggiamento non curante la conversazione tuttavia continuava modo dei suoni sordi come emessi da bocche tappate da cuscini e tuttavia distinti assai vicini mi sono riscosso mi sono tirato su a sedere e mi sono messo ad ascoltare attentamente vostra eccellenza è davvero una cosa impossibile avete dichiarato a cuori io ho visto e salta fuori che avete il set di quadri bisognava mettersi d'accordo prima a proposito dei quadri ma cosa vorreste allora giocare a memoria dove va a finire tutto il divertimento ma non si può vostra eccellenza senza una garanzia non si può assolutamente bisogna assolutamente giocare con un imbecille e che si diano sempre le carte coperte quindi imbecilli non ne trovi parole insolenti però era una cosa strana e inattesa una voce era tutta grave e posata l'altra morbidamente dolce non ci avrei creduto se non l'avessi sentito con le mie orecchie al banchetto a quanto pare non mi trovavo come era allora possibile che giocassero a preference lì e chi era questo generale che le voci provenissero dalla tomba non vera dubbio mi sono chinato e ho letto l'iscrizione sulla lapide qui già c'è il corpo del general maggiore perdoievov cavaliere degli ordini di edì è mancato nell'agosto di quest'anno in età di cinquantasette riposa cara cenere fino al radioso giorno diavolo è davvero un generale sull'altra tomba dalla quale proveniva la voce premurosa non vera ancora nessun monumento c'era soltanto una targa doveva trattarsi di una nuova recluta di un consigliere di corte a giudicare della voce risonò la voce del tutta nuova a circa cinque sazen dal luogo dove si trovava il generale proveniente da una tomba fresca fresca era una voce maschile popolana ma addolcita in un tono di intenerita venerazione eccolo che ha di nuovo il singhiozzo risonò improvvisamente la voce sprezzante altezzosa di una dama irritata appartenente a quanto sembrava all'alta società che tormento per me avere accanto questo bottegaio non è niente non ho singhozzato non ho neppure toccato cibo è soltanto la mia complessione però voi signora non riuscite a liberarvi dai vostri capricci allora perché vi siete messo a giacere qui mi ci hanno messo mi ci hanno messo la mia consorta e i miei accanto a voi ma neanche per tutto l'oro del mondo io me ne sto qui grazie al mio proprio capitale in base al prezzo perché noi siamo sempre in grado di pagare per la nostra tomba di terza categoria ne hai messi da parte imbrogliando la gente come si fa a imbrogliare voi sei da gennaio che non pagate un centesimo c'è un vostro conticino da pagare giù alla bottega a questo poi è davvero stupido stare a guardare ai debiti qui è davvero stupido andate lassù a chiedergli a mia nipote e lei l'erede ma come si fa a chiedere adesso e dove volete andare tutti e due siamo giunti alla meta e davanti al giudizio di dio siamo uguali nei nostri peccati nei nostri peccati gli fece il verso con disprezzo la morta non osate proprio rivolgermi la parola tuttavia il bottegaio porta rispetto alla signora vostra eccellenza e perché non dovrebbe portarle rispetto beh si sa vostra eccellenza che qui c'è un nuovo ordinamento di quale nuovo ordinamento andate parlando ma il fatto è che noi per così dire siamo morti vostra eccellenza ma sì sì in fondo si tratta di un ordinamento beh mi hanno fatto un piacere non c'è niente da dire mi hanno riconfortato se qui ormai le cose sono arrivate a questo punto cosa volete pretendere al piano superiore che scherzetti però ho continuato tuttavia ad ascoltare anche se con straordinaria irritazione no io avrei vissuto ancora un po' no io sapete avrei vissuto ancora un po' risuonò improvvisamente una nuova voce da qualche parte nello spazio intermedio tra il generale e la dama irritabile sentite vostra eccellenza il nostro amico ha ricominciato col suo ritornello per tre giorni se ne sta zitto ed un tratto io avrei vissuto ancora un po' no io avrei vissuto ancora un po' e con quale sapete appetito nello dice e con che leggerezza gli fa effetto vostra eccellenza e sapete si addormenta si addormenta completamente è già qui da aprile infatti e a un tratto sbotta io vivrei ancora un po' si sanno io al quanto però osservò sua eccellenza è vero vostra eccellenza vogliamo stuzzicare di nuovo ad vota ignatevna oh no ve ne prego non posso soffrire quella seccatrice petulante io invece non posso soffrire nessuno di voi due ribatte con tono sprezzante la seccatrice siete entrambi noiosissimi e non sapete raccontare niente di idealistico sul vostro conto vostra eccellenza conosco una certa storiella di come una mattina un cameriere vi ha cacciato fuori con la scopa da sotto un certo letto coniugale che donna orribile borbottò tra i denti generale mammina ad vota ignatevna ci mette di nuovo all'improvviso il bottegaio signora mia cara dimmi scordando le offese come mai sto passando tutti questi tormenti o cos'altro sta accadendo eccola che ricomincia l'avevo indovinato perché sentivo l'odore che emana quando si rivolta io non mi rivolto mammina e non emano nessun particolare odore perché sono ancora perfettamente conservato come ero prima voi piuttosto cara signora ormai avete cominciato a decomporvi è un odore infatti insopportabile anche per il posto in cui ci troviamo è soltanto per educazione che sto zitto a brutto calunniatore è lui che puzza in questo modo e dà la colpa a me arrivasse almeno al più presto il quadrigesimo così sentirò i loro occhi piangenti sopra di me il lamento della consorta e il pianto silenzioso dei bambini ma guarda di che cosa va a piangere si rimpinceranno di cutigia e se ne andranno se qualcuno almeno si svegliasse ad votia ignatievna disse l'impiegato premuroso aspettate un momentino vedrete che adesso si metteranno a parlare i novellini ci sono almeno dei giovani tra loro ci sono anche dei giovani ad votia ignatievna ci sono persino dei ragazzi ah a proposito ma come mai non hanno ancora cominciato si informò sua eccellenza persino quelli di tre giorni fa non si sono ancora svegliati vostra eccellenza sapete bene che a volte rimangono zitti anche una settimana meno male che ieri l'altro ieri e oggi d'un tratto ne hanno portati un bel po altrimenti tutto attorno nel raggio di dieci salsen non c'era altro che gente dell'anno scorso sì è interessante sapete vostra eccellenza oggi hanno seppellito il consigliare segreto tarasievich li ho riconosciuti dalle voci conosco suo nipote che poco fa ha calato la bara nella fossa e dov'è adesso proprio a cinque passi da voi alla vostra sinistra vostra eccellenza quasi ai vostri piedi sarebbe il caso che faceste conoscenza vostra eccellenza no non posso mica essere io il primo ma sarà lui a cominciare vostra eccellenza sarà addirittura lusingato lasciate fare a me vostra eccellenza e io ah ah che cosa mi succede pensiamo all'improvviso con tono spaventato una vocina nuova un novellino vostra eccellenza un novellino dio sia lodato e come ha fatto in fretta a volte rimangono zitti una settimana ah sembra che sia uno giovane strillo ad voti a ignatievna io 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 sono qui a causa di una complicazione è stato così improvviso barbettò di nuovo l'adolescente la vigilia io gli ci mi fa avete una complicazione e io a un tratto il mattino dopo sono morto e non c'è niente da fare giovanotto osservò benevolmente il generale rallegrandosi evidentemente dell'intervento del novellino bisogna darsi pace benvenuto nella nostra per così dire valle di giosafat noi siamo persone per bene ci conoscerete e ci apprezzerete general maggiore vasili vasilievich perdoievov al vostro servizio ah no no assolutamente no io sono in cura da iulice sapete che mi è venuta una complicazione da prima mi aveva preso al petto e mi era venuta la tosse poi mi sono raffreddato dolori al petto influenza e a un tratto del tutto inaspettatamente del tutto inaspettatamente soprattutto da principio mal di petto dite centramese con delicatezza l'impiegato come se volesse rinfrancare il novellino sì mal di petto e catarro poi d'improvviso il catarro è passato ma mi faceva male il petto non riuscivo più a respirare e sapete lo so lo so ma se si tratta di petto avreste fatto meglio ad andare piuttosto da ec invece che da iulice io sapete mi accingevo sempre ad andare da Botkin e improvvisamente ma Botkin morde osservò il generale ah no non morde affatto ho sentito dire che è così pieno di attenzioni che prevede tutto sua eccellenza alludeva al prezzo precisò l'impiegato ma cosa dite soltanto tre rubli e vi fa una visita così accurata e la ricetta volevo assolutamente andarci perché mi avevano detto allora signori cosa ne dite devo andare da Eck o da Botkin come dove una gradevole risata fece sussultare il cadavere del generale l'impiegato gli fece eco con la sua voce in falsetto caro ragazzo caro gaio ragazzo come ti voglio bene strillò estagiata ad voti a Igna Tebna ah se deponessero un ragazzo così accanto a me no questo non lo posso ammettere sarebbe questo un morto moderno tuttavia è meglio ascoltare ancora e non avere fretta a tirare le conclusioni questo moccioso di novellino me lo ricordo poco fa dentro la bara ha l'espressione di un pollo spaventato la più sgradevole di questo mondo tuttavia sentiamo cosa succede dopo dopo cominciò un tale guazzabuglio che non sono riuscito ad annotare tutto nella mia memoria perché se ne risvegliarono parecchi tutti insieme si risvegliò un impiegato un consigliere di stato e subito si mise a discutere col generale sul progetto di una nuova sottocommissione presso il ministero degli affari e sul probabile trasferimento di impiegati collegato alla creazione della suddetta commissione argomento che interessò moltissimo il generale confesso che anch'io ho imparato un sacco di cose nuove meravigliandomi delle vie attraverso cui in questa capitale talvolta capita di venire a sapere delle novità amministrative poi si risvegliò a metà un ingegnere ma per un pezzo continuò a borbottare delle assolute sciocchezze sicché i nostri non badarono a lui e per il momento lo lasciarono in disparte infine manifestò segni di oltretombale ammirazione una dobil donna aristocratica di cui la mattina erano state celebrate le esegue con tanto di catafalco Debeziasnikov perché il consigliere di corte adulatore e a me odioso risultò a chiamarsi Debeziasnikov si agitò e si meravigliò molto per il fatto che questa volta tutti si risvegliavano tanto in fretta confesso di essermi meravigliato anch'io d'altronde taluni tra coloro che si risvegliavano erano stati seppelliti due giorni prima come per esempio una fanciulla molto giovane di circa sedici anni che continuava a ridacchiare in maniera ripugnante e sensuale vostra eccellenza il consigliere segreto Tarasievich si sta risvegliando annunciò improvvisamente Debeziasnikov con straordinaria premurosità come? cosa? riuscicò improvvisamente con tono sprezzante e strascinandola a esse il consigliere segreto risvegliandosi di colpo nella sua voce risuonavo non so che di capricciosamente imperioso ho tesso l'orecchio con curiosità perché negli ultimi giorni ho sentito dire a proposito di questo Tarasievich qualcosa di estremamente ghiotto e allarmante sono io vostra eccellenza per il momento sono soltanto io che cosa volete che cosa vi occorre volevo solamente informarmi della salute di vostra eccellenza a causa della mancanza di abitudine ciascuno qui sulle prime si sente come allo stretto il generale Perdojevuf desidera avere l'onore di fare la vostra conoscenza e si augura mai sentito abbiate pazienza vostra eccellenza il generale Perdojevuf Vasili Vasilevich siete voi il generale Perdojevuf no signore vostra eccellenza io sono soltanto il consigliere di corte Zaznikov per servirvi il generale Perdojevuf sciocchezze vi prego di lasciarmi in pace lasciate stare disse il generale stesso arrestando finalmente lo zelo ripugnante del suo oltretombale cliente non si è ancora risvegliato del tutto vostra eccellenza bisogna tener conto di ciò ed è a causa della mancanza di abitudine quando sarà risvegliato del tutto vi farà un'accoglienza diversa lasciate stare ripete il generale Vasili Vasilevich ehi voi vostra eccellenza gridò improvvisamente forte e ballanzosa una voce completamente nuova proprio accanto ad avotia ignetevna una voce insolente ed aristocratico con la pronuncia stanca secondo la moda e col caratteristico tono impudente sono due ore che vi sto osservando a tutti quanti sono già tre giorni infatti che sono qui vi ricordate di me Vasili Vasilevich Krinievich ci siamo incontrati a Volokomsky dove del resto non so come mai vi avessero invitato ma come il conte Piotr Pietrovich possibile che siate voi così giovane come mi dispiace sì dispiace anche a me ma soltanto me ne infischio e voglio tirar fuori tutto il possibile da ogni situazione e non sono conte ma barone soltanto barone siamo di quei baroncini tignosi discendenti di Lacquet non so neanche perché me ne infischio sono soltanto un furfante del cosiddetto bel mondo e passo per un caro polisson mio padre era non soccheggere la luce e mia madre un tempo era apprezzata e not lieux io e Zifel l'ebreo l'anno scorso abbiamo spacciato 50.000 rubli di biglietti falsi io poi l'ho denunciato ma ma i soldi se li ha portati via a Bordeaux gli ulici e charpentier di Lusignam e pensate ero proprio in procinto di sposarmi con la Ceva Jenskaya e mancavano ancora tre mesi a compiere i sedici anni andava ancora all'istituto 1900 rubli di dote Advotia Ignatebna vi ricordate come 15 anni fa quando ero ancora un paggio quattordicenne mi avete avviato sulla strada del vizio ah sei tu mascalzone se almeno Dio ti avesse mandato da qualche altra parte altrimenti qui avete ingiustamente sospettato il vostro negoziante di emanare cattivo odore io me ne sono rimasto zitto e ridevo l'odore infatti viene da me dato che mi hanno seppellito in una vara inchiodata ah infame però nonostante tutto sono contenta voi non ci crederete Klinjevich che mancanza di vita e di spirito ci sia qui ma certo certo e io ho l'intenzione di organizzare qualcosa di originale qui vostra eccellenza non dico a voi perdo Ievof vostra eccellenza quell'altro signor Traxievich consigliere segreto rispondete sono Klinjevich quello che vi ha portato da mademoiselle forì durante la quaresima mi sentite mi sento Klinjevich e sono molto lieto credetemi non ci credo per niente e me ne infisco vorrei semplicemente baciarvi caro vecchietto ma grazie a Dio non posso sapete signori cosa ci ha combinato questo gran pair due o tre giorni fa è morto e immaginatevi un po' ha lasciato ben quattrocentomila rubli di ammanco si trattava dei fondi destinati alle vedove e agli orfani ma lui chissà perché ne disponeva come voleva erano otto anni che non gli facevano la revisione dei conti immagino adesso che facce scure ci saranno laggiù e con quali epiteti lo ricorderanno che pensiero bruttuoso non è vero era da un anno che mi chiedevo meravigliato come mai a questo vecchiaccio settantenne podagroso e chiaragroso fossero rimaste tante energie per il vizio ad ecco adesso la soluzione dell'enigma queste vedove e questi orfani già solo il pensiero di essi doveva accendergli il sangue io lo sapevo già da un pezzo lo sapevo soltanto io me l'aveva confidato la charpentier e come l'ho saputo mi sono subito messo alle sue costole da amico dammi 25.000 rubli altrimenti domani ti faranno la revisione quella volta pensate non è riuscito a trovarne che 13.000 per cui adesso è morto giusto in tempo gran père gran père mi sentite charpinievich sono perfettamente d'accordo con voi però non era il caso che entraste in simili dettagli nella vita ci sono tante sofferenze tanti cruci e così poche ricompense che verso la fine ho provato il desiderio di prendermi qualche soddisfazione e a quanto vedo spero anche qui di trarre tutto ciò scommetto che ha già annusato la katia berestova chi quale katia la voce del vecchio tremò di sensualità ah quale katia ma questa qui a sinistra a cinque passi da me e a dieci da voi sono già cinque giorni che è qui e se voi sapeste gran père che razza di sporca cioncella viene da una buona casa è educata ed è un mostro un mostro incredibile laggiù non avevo indicata a nessuno solo io lo sapevo katia rispondi katia rispondi gli fece ecco il suonofesso di una vocetta di ragazza ma in essa risuonava come la puntura di uno spillo è una biondina viascicò ansimando spezzando in tre la parola il gran père è un pezzo viascicò col respiro che gli mancava il vecchio che accarezzavo l'idea di una biondina su quindici anni è proprio in una situazione come questa ah mostro proruppe advotia ignatievna basta decise klinievich vedo che il materiale è eccellente qui ci sistemeremo ben presto nel migliore dei modi quel che più conta è di passare allegramente il tempo che ci resta ma quale tempo ehi voi quell'impiegato le biaznikov mi pare ho sentito che vi chiamavano così le biaznikov consigliere di corte semai e klinievich per servirvi e sono molto 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 lieto meno in fisco che siate lieto è soltanto che voi qui a quanto sembra sapete tutto ditemi in primo luogo è da ieri che me lo chiedo come mai noi qui parliamo siamo morti infatti eppure parliamo sembrerebbe anche che ci muoviamo e invece non parliamo e non ci muoviamo che razza di giochi di prestigio sono questi questo se lo desiderate barone ve lo potrebbe spiegare meglio di me platon nikolaievich ma quale platon nikolaievich non farfugliate veniamo ai fatti platon nikolaievich è il nostro locale filosofo casalingo naturalista edotto egli ha scritto diversi libretti di filosofia ma sono tre mesi che si va addormentando completamente così che non si riesce ormai più a riscuoterlo una volta alla settimana borbotta qualche parola fuori di luogo veniamo ai fatti veniamo ai fatti egli spiega tutto nella maniera più semplice e cioè quel fatto che di sopra quando ancora eravamo vivi ritenevamo erroneamente che la morte di lassù fosse la vera morte il corpo invece qui per così dire si rianima i lasti di vita si concentrano ma soltanto nella coscienza la vita non riesco a spiegarvelo bene prosegue come per forza d'inerzia tutto si concentra secondo la sua opinione da qualche parte nella coscienza e prosegue ancora per due o tre mesi a volte perfino per sei mesi se ne è uno qui per esempio che si è quasi del tutto decomposto ma una volta ogni sei settimane circa a un tratto borbotta una paroletta naturalmente senza senso su qualche boboc 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 anche in lui evidentemente c'è ancora un'impercettibile scintilla di vita è abbastanza stupido ma come si spiega che io non ho olfatto ma sento il puzzo il fatto è è su questo punto a dire il vero il nostro filosofo brancola nel buio proprio a proposito dell'olfatto egli ha notato che qui si avverte il puzzo per così dire morale il puzzo sarebbe a dire dell'anima affinché uno in questi due o tre mesi abbia la possibilità di ravvedersi e questo per così dire sarebbe l'estrema misericordia solo a me sembra barone che questo non sia altro ormai che un delirio mistico del tutto scusabile vista la sua situazione basta anche il resto ne sono convinto saranno tutte sciocchezze la conclusione principale è che abbiamo ancora due o tre mesi di vita e a conclusione di tutto boboc propongo a tutti di trascorrere questi due mesi nella maniera più piacevole e a questo scopo di organizzarci su altre basi signori propongo di non vergognarci di nulla ah sì sì non vergogniamoci di nulla si udirono esclamare numerose voci e cosa strana tra di esse si udirono anche voci del tutto nuove vale a dire di persone risvegliate si nel frattempo con particolare entusiasmo rimbombò con tono di basso esprimendo il proprio consenso la voce dell'ingegnere ormai risvegliatosi completamente la bambina katia ridacchiò allegramente ah come desideravo non vergognarmi di nulla esclamò con entusiasmo ad voti a ignatevna sentite se ad voti a ignatevna desidera non vergognarsi di nulla allora no 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 klinievic io mi vergognavo nonostante tutto lassù io mi vergognavo ma qui desidero terribilmente terribilmente non vergognarmi più di nulla mi sembra di capire klinievic disse con la sua voce di basso l'ingegnere che voi proponete di organizzare per così dire la vita su basi nuove e finalmente ragionevoli ma io me ne infisco a questo proposito meglio attendere Kudeirov l'hanno portato qui ieri quando si sveglierà vi spiegherà tutto lui è una tale personalità una personalità così gigantesca domani credo porteranno anche un altro naturalista sicuramente un ufficiale e se non sbaglio da tre o quattro giorni un autore di foietton e credo assieme a lui un redattore il resto che diavolo riporti soltanto si radunerà una bella compagnia e tutto si sistemerà da sé intanto però vorrei che non mentissimo soltanto questo vorrei perché è la cosa principale vivere sulla terra senza mentire è impossibile perché vita e menzogna sono sinonimi qui però tanto per ridere non mentiremo che il diavolo mi porti la tomba significa pure qualcosa racconteremo tutti ad alta voce le nostre storie e non ci vergogneremo più di nulla per primo vi racconterò la mia io sapete sono un sensuale lassù tutto era legato con corde marce via le corde ora e viviamo questi due mesi nella verità più svergognata spogliamoci denudiamoci 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 gridarono tutti a piena voce io desidero terribilmente terribilmente denudarmi strillava dvotia ignatievna vedo che qui ci si divertirà non voglio più andare da ec no sapete io avrei vissuto ancora un po' iiii ridocchiò katia la cosa principale è che nessuno può impedircelo anche se questo per lo jedov lo vedo si arrabbia non riuscirà a toccarmi con una mano gran per voi siete d'accordo io sono assolutamente assolutamente d'accordo e con mio grandissimo piacere ma alla condizione che katia incominci per prima a raccontarci la sua biografia protesto protesto con tutte le mie forze proferì con fermezza il generale per lo jedov vostra eccellenza mi svegliava con premurosa agitazione e abbassando la voce cercando di convincerlo quel mascalzone di dabjasnikov vostra eccellenza ma sarebbe perfino più vantaggioso per noi se consentissimo qui sapete c'è quella bambina e poi tutte quelle svariate cosette supponiamo pure la bambina ma è più vantaggioso vostra eccellenza vi assicuro è più vantaggioso anche solo per esempio facciamo almeno una prova neanche nella tomba ti consentono di startene un po' tranquillo in primo luogo generale voi nella tomba giocate a preference e in secondo luogo noi di voi se ne infischiamo scandi klinjevic e grazie signore vi prego nonostante tutto di non perdere il controllo cosa ma voi non riuscirete a toccarmi e da qui posso stuzzicarvi come il cagnolino di julica e soprattutto signori ma che generale è mai egli qui la sua era un generale ma qui non è nessuno no signore anche qui io voi vi marcirete nella bara e di voi resteranno sei bottoni di rame bravo klinjevic tuonarono diverse voci io ho servito il mio sovrano io ho la spada con la vostra spada potete infilzare i topi e poi voi non l'avete mai sfoderata non fa niente io costituivo una parte del tutto di parti del tutto ce n'è di tutti i generi bravo klinjevic io non capisco cosa sia una spada proclamò l'ingegnere davanti ai prussiani scapperemo come topi ci spenderanno ben bene urlò una voce lontana che non conoscevo andando letteralmente in solluchero per l'entusiasmo la spada signore è un onore tentò di gridare il generale ma io non lo udì si sollevò una prolungata e forse nata varaonda nella quale si distinguevano soltanto gli strilli impazienti fino all'isterismo di adbotia ignatievna presto dunque presto quando cominceremo a non vergognarci più di nulla oh 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 in verità l'anima è nei tormenti risuonò la voce del popolano e a questo punto a un tratto io ho sternitito è accaduto all'improvviso inavvertitamente ma l'effetto è stato stupefacente tutto ha taciuto come in un cimitero è svanito come un sogno esce su un silenzio davvero di tomba non penso che essi si siano vergognati per la mia presenza avevano ben deciso di non vergognarsi di nulla ho aspettato circa cinque minuti né una parola né un suono non si può neppure supporre che essi avessero paura che li denunciassi alla polizia perché cosa può mai fare qui la polizia ne deduco senza volerlo che essi debbono avere un qualche segreto sconosciuto ai viventi e che tengono accuratamente nascosto ad ogni essere vivente ma cosa credete carini verrò ancora a trovarvi ho detto fra me e con queste parole ho lasciato il cimitero no questo non lo posso ammettere no davvero no Boboc non mi turba è risultato che era proprio Boboc la depravazione in un luogo come quello la depravazione che distrugge le ultime speranze la corruzione di cadaveri esanimi e marcescenti senza neppure risparmiare gli ultimi istanti di coscienza sono stati loro concessi donati questi istanti e loro ma soprattutto in un posto come quello no questo non lo posso ammettere andrò anche negli altri settori ascolterò dappertutto proprio così bisogna ascoltare dappertutto e non soltanto da una parte per potersi fare un concetto forse mi imbatterò in qualcosa di confortante ma da quelli tornerò immancabilmente hanno promesso di raccontare le loro biografie e aneddoti di vario genere fu ci andrò ci andrò immancabilmente è una questione di coscienza porterò l'articolo al cittadino hanno perfino pubblicato il ritratto di un redattore forse me lo pubblicheranno di un redattore di un redattore di un redattore di un redattore